Buongiorno. Buongiorno. Le uova le prendi strapazzate o fritte? Non fa molta differenza, forse strapazzate, forse più veloce. Bene, allora le prendo strapazzate anch'io. Beh, è bello ogni tanto fare colazione senza i bambini. Sì. Ho pensato che oggi ti ci voleva una buona colazione. È un giorno importante, no? Non è oggi che hai la riunione con Pollack? Beh, sì, sai che bellezza. Deve essere davvero una bella cosa. Per loro. Non ho ben capito cosa farai nel tuo nuovo lavoro, non ne hai mai parlato molto. Non ti ne ho mai parlato. Ma vedi, credo che abbia a che fare con la Knox. Si presta ad acquistare uno di quei grandi computer, più grandi del Cinquecento. Ma non ti ne ho mai parlato. No. Però puoi farlo adesso, se ti va. Vedi. È come se fossero delle grandi addizionatrici. Ok? Solo che... Anziché le parti meccaniche hanno delle valvole termoioniche. Vedi. Ho capito, almeno credo di aver capito. È molto interessante, no? Beh, sì, è interessante. Devi apprezzare quello che fai. È evidente che tu sia molto bravo a farlo. E adesso devo andare. A metterti. April, grazie per questa colazione. È... È stata una delle colazioni più belle che ho ricevuto. Grazie. Anche a me è piaciuto molto. Quindi... Non mi odi? Certo che non ti odio. Bene, allora. Buona giornata. È dopo.